Infatti io credo che ci sarà una prima fase di grande vaccinazione attuale nella quale è necessario abbassare più possibile la circolazione, seppur minimale, del virus. Ma da qui a poco andremo, secondo me, a una vaccinazione simil-influenzale, cioè con la vaccinazione della fascia realmente a rischio e l'altra invece assolutamente facoltativa. Per cui dobbiamo dire alla gente che in questo momento è socialmente e personalmente importante contribuire all'abbassamento della circolazione del virus e soprattutto non favorire l'insorgenza di varianti. Perché dall'altro lato stiamo anche correndo un altro rischio di selezionare virus con varianti che poi saranno difficilmente inseguibili con i vaccini attualmente a nostra disposizione. Se tu non sei vaccinato e intanto nasce una variante, quella non la riprendi più. Devi ripartire da capo. Beh, dipende da quale variante. Quindi alcune, abbiamo visto che quella UK è assolutamente coperta dagli attuali vaccini, ma non lo è per esempio la nigeriana che già si sta affacciando, abbiamo già un caso noi al sacco. Non è coperta dagli attuali vaccini. Funzionano molto male. Anche la sud-africana e anche la giapponese. E anche la brasiliana. E anche la brasiliana, sono diverse, Sileri. Ed è per questo che serve la cautela nella progressione delle riaperture.